L'idea è quella di non approfittare di questi due appuntamenti rievocativi per snodare un percorso culturale che abbia l'ambizione di portare e fare sempre più conoscere Mimmo e la sua arte alla città e alla Calabria in genere. Questa possibilità viene offerta anche non solo dai due eventi rievocativi ma anche dalla volontà dell'amministrazione comunale di Catanzaro di affiancarci come fondazione e come Mimmo Rotella Institute avvalendosi anche della collaborazione di illustri personaggi per fare un percorso di tipo culturale e penso che ci siano tutti i presupposti per riuscirci. Stiamo ricordando queste due date importanti ma proprio per questo motivo non vorremmo che solo durante queste ricorrenze si parlasse di Mimmo Rotella, dobbiamo farlo conoscere meglio la città perché è un artista conosciuto in tutto il mondo, addirittura stanno per organizzare delle mostre in Russia e in America ed è assurdo che ancora parte della città non conosca questo grande artista. Ormai Catanzaro conosco magari è la seconda città dopo Milano che conosco da tanti anni che vengo, venivamo sempre, Mimmo era molto legato con la mamma quindi venivamo anche per Natale, Capodanno, Pasqua e quindi... Grazie a tutti.